questo è un angelo giochiamo che? giochiamo che? io ti chiamo tre volte eh sì ok? io ti chiamo tre volte con cellulare? ti dico, ti dico sì sì, con cellulare ah? fai lo squillo, ti richiamo io va bene, ah? ah? come? cattivo? no bravo! non c'ho freddi! ah! c'ho l'ha freddo! non c'ho freddi! ah! c'ho freddo! giochiamo! ah? giochiamo! giochiamo! io ti chiamo io ti chiamo tre volte io ti chiamo tre volte e tu non vieni allora io adesso quando tu non vieni ti faccio gli occhi così no è bello, ti piace? no, ti piace? no, ti piace? ti piace? ti piace? non voglio giocare ti piace? no! sì! è cattivo! giochiamo! ti chiamo? angelo alfredo! angelo alfredo! no! non devi venire! è cattivo! come ti faccio a pigliar cazzotto? si no! angelo alfredo! rispondo! bravo! cattivo! freddo! cattivo io! angelo alfredo! no! noo! da! apposto! angelo alfredo! rispondo! angelo ha freddo o non ho sentito niente angelo ha freddo ma ti faccio vedere io come si fa allora ti faccio vedere se ti sei rimontato tu mi chiami angelo freddi mi chiami tre volte e ti faccio vedere che io non vengo allora tu come regalo mi dovesse dare il cazzotto però non vedi perché ti faccio vedere va bene vai angelo freddi ok ti chiamo mi chiami si vai angelo freddi non viene angelo freddi angelo freddi e vabbè vado io bravissimi bravi 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 lo spettacolo continua